parliamo un po' su quello che è l'ABC dei fondi, cioè come nascono, quindi parleremo innanzitutto della strategia Europa 2020 che è un po' la madre dei fondi europei, poi parleremo della distinzione tra i diversi tipi di finanziamenti, cioè la differenza tra fondi diretti e fondi indiretti e poi parleremo di come si utilizzano questi fondi, quindi dal momento dell'intercettazione del bando fino alla presentazione di un progetto vero e proprio e poi avremo un'ultima sessione dedicata a dove trovare le informazioni utili per poter essere sempre aggiornati su bandi e politiche dell'Unione Europea. Perché è nata la strategia Europa 2020? In realtà la strategia Europa 2020 è stata una sorta di risposta alla crisi economica che si è verificata negli ultimi anni e che tra l'altro ha determinato un alto tasso di disoccupazione, quindi l'obiettivo che si è prefissa all'Unione Europea con questa strategia è stato quello di superare questa crisi e questo può avvenire soltanto se ci si dà una strategia che sia attiva nel lungo termine, quindi il vero obiettivo di questa strategia è stato quello di creare più posti di lavoro e una vita migliore. Il documento di programmazione precedente alla strategia Europa 2020 era la strategia di Lisbona, che però sappiamo è terminata con una crisi economica molto forte, chiaramente non causata dall'Europa, ma da fattori internazionali che hanno inciso profondamente su quello che è stata la politica economica dell'Unione Europea. Questa strategia, la strategia Europa 2020 ha tre priorità che sono quelli della crescita intelligente per lo sviluppo di un'economia che si basi essenzialmente sulla conoscenza e l'innovazione, la seconda priorità è quella della crescita sostenibile per cercare di promuovere economie che siano più efficienti sotto il profilo delle risorse, ma che siano anche più attenti all'ambiente e quindi anche più competitive. La terza priorità è quella della crescita inclusiva che prevede la promozione di un'economia che generi un alto tasso di occupazione e che quindi possa favorire la coesione sociale e territoriale. A queste tre priorità corrispondono poi gli undici obiettivi tematici che sono quelli della crescita intelligente, quindi maggiori investimenti in ricerca e innovazione, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cercare di aumentare quanto più possibile la competitività delle piccole e medie imprese europee che sono il vero motore economico dell'Europa e anche cercare di generare un'economia che sia a basse emissioni di carbonio. Per quanto riguarda la priorità della crescita sostenibile, lo sforzo dell'Unione europea si concentra sulla lotta ai cambiamenti climatici, ha un maggiore concentrazione su quello che è l'ambiente e anche l'efficacia delle risorse ambientali e maggiori investimenti nel settore dei trasporti sostenibili. Per quanto riguarda la terza priorità, quella della crescita inclusiva, l'Unione europea deve concentrarsi di più su maggiori occupazioni e mobilità all'interno dell'Unione europea, più attenzione a quelle che sono le tematiche relative all'inclusione sociale, maggiori investimenti nei settori dell'istruzione e delle formazione affinché diventino più efficaci e principalmente l'Unione europea deve dotarsi di un'amministrazione pubblica che sia più efficiente e quindi in grado di poter seguire questi processi. Tra l'altro questa strategia Europa 2020 si è dato 5 obiettivi misurabili, quindi nel settore dell'occupazione per esempio l'obiettivo è quello di innalzare al 75% del tasso di occupazione per le persone che hanno un'età compresa tra i 20 e 64 anni. Per quanto riguarda il settore della ricerca e dello sviluppo, l'obiettivo è quello di portare al 3% del PIL dell'Unione europea gli investimenti in questo settore. Per quanto riguarda l'istruzione, l'obiettivo è quello di portare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e almeno il 40% delle persone che hanno un'età compresa tra i 30 e i 34 anni dovrà avere un livello di istruzione a livello universitario. Per quanto riguarda la povertà e l'emarginazione l'obiettivo è quello di avere 20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà oppure di emarginazione. Ancora un target importante è quello del settore dell'ambiente, il target era quello di raggiungere il 20-20-20, il target in tema di cambiamenti climatici ed energia, quindi riduzione del 20% dell'emissione di gas a effetto serra, il 25% del fabbisogno energetico dovrà provenire da fonti rinnovabili e in più ci si aspetta per il 2020 un aumento del 20% dell'efficienza energetica. In realtà l'Europa in questo settore sta andando molto bene, infatti si parla già di obiettivi al 2030, questo perché alcuni paesi come i paesi del nord e i paesi scandinavi stanno raggiungendo dei risultati molto più velocemente. Ancora per quanto riguarda il 2030 gli obiettivi saranno quello di ridurre del 40% i gas a effetto serra, quello di ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili, cercare di aumentare l'efficienza energetica del 27-30% e anche portare il livello di interconnessione elettrica al 15%, quindi come vedete nel settore dell'ambiente l'Europa in realtà sta progredendo molto velocemente. Questi obiettivi sono chiaramente non isolati ma sono interconnessi tra di loro e anche di reciproca utilità, per esempio investimenti in un'istruzione migliore in realtà poi giova anche alle prospettive professionali e può contribuire a ridurre la povertà, maggiori investimenti per esempio nel settore della ricerca e dello sviluppo e anche un uso più efficiente dell'energia ci possono rendere più competitivi e possono anche creare nuovi posti di lavoro, quindi come vedete questi obiettivi non sono isolati ma interagiscono tra di loro e tutti contribuiscono a raggiungere i 5 obiettivi misurabili della strategia Europa 2020. Ora, la strategia, questi di cui abbiamo parlato sono gli obiettivi che devono essere raggiunti a livello europeo, però poi ogni paese in realtà deve raggiungere gli obiettivi a livello nazionale, per esempio per quanto riguarda l'Italia, nel settore dell'occupazione è previsto che il 67-69% della popolazione tra 20 e 64 anni dovrà essere occupata entro il 2020, nel settore dell'istruzione terziaria il 26-27% della popolazione con età compresa tra i 30 34 anni dovrà aver completato un'istruzione universitaria equivalente e dovremo avere circa 2 milioni e 200 mila poveri in meno, così come noi dovremo raggiungere un tasso di abbandono scolastico inferiore al 15-16%. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, l'1,53% del PIL dovrà essere investito in questo settore, nel caso dell'Italia l'efficienza energetica dovrà aumentare del 13,4% e il 17% del consumo energetico dovrà provenire da energie rinnovabili, così come dovremo avere una riduzione del 13% del gas a effetto serra. Ora, la Commissione europea ha proposto 7 iniziative faro, questo un po' per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario. Che cosa sono queste iniziative faro? Sono dei veri e propri programmi di lavoro che la Commissione dà per progredire sulla strada del raggiungimento degli obiettivi della strategia. Quindi per quanto riguarda la priorità della crescita intelligente, le iniziative faro di riferimento sono tre, l'unione dell'innovazione che ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, l'iniziativa faro Youth on the Move invece si occupa di migliorare i sistemi di insegnamento e quindi agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, mentre chiaramente l'agenda europea del digitale ha come obiettivo quello di accelerare la diffusione di Internet ad alta velocità. Per esempio nell'agenda europea del digitale è indicato che entro il 2020 almeno il 50% della popolazione europea dovrà essere collegata a Internet attraverso la banda larga. Ancora nel settore della priorità e della crescita sostenibile, le iniziative faro di riferimento sono due, che sono Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, che ha come obiettivo quello di dare una guida per favorire la crescita economica nel rispetto dell'ambiente e la seconda altra iniziativa faro è una politica industriale per l'era della globalizzazione per migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie imprese e quindi migliorare in generale la competitività delle imprese europee a livello anche internazionale. Per quanto riguarda la priorità della crescita solidale, le iniziative faro di riferimento sono due, agenda per nuove competenze e nuove posti di lavoro, che ha come obiettivo la modernizzazione dei mercati occupazionali e la piattaforma europea contro la povertà per garantire la coesione sociale e territoriale e quindi distribuire equamente i benefici della crescita. Quindi in realtà all'interno di queste iniziative faro, man mano che andremo avanti, voi potrete anche un po' riconoscere quelle che sono le fonti dei finanziamenti europei. Il consiglio è che nel momento in cui preparate una proposta di progetto, andare a individuare qual è la linea finanziaria di riferimento e quindi cercare nella vostra proposta di progetto di dare una risposta a quello che è il piano di lavoro indicato nelle iniziative faro, perché questo chiaramente farà capire alla commissione che voi avete studiato attentamente quella che è la strategia e che quindi voi attraverso la vostra proposta di progetto state cercando di dare una soluzione ai problemi posti dall'Europa e quindi concorrere al raggiungimento della strategia Europa 2020. Quella che ora vedete è visualizzata nelle slide la pagina dedicata alla strategia Europa 2020 e sulla parte destra, non so se potete vederla, nella documentazione da scaricare potete scaricare tutte le iniziative faro di cui abbiamo appena parlato. Questa è la nuova pagina della strategia Europa 2020 dove appunto sono indicati gli obiettivi e tutto ciò che può aiutare a capirle i contenuti. Ora per poter raggiungere gli obiettivi che sono stati indicati dalla strategia Europa 2020, l'Unione Europea si avvale essenzialmente di tre strumenti finanziari che possiamo suddividere in tre grandi gruppi, fondi strutturali, finanziamenti diretti, strumenti finanziari per l'assistenza esterna. Vediamoli un attimo nel dettaglio. Nella gestione diretta, si chiama diretta, quindi i cosiddetti programmi comunitari che sono quelli che noi conosciamo come il programma Life, il programma Horizon, Erasmus e quant'altro, sono definiti diretti perché le risorse sono erogate e gestite direttamente dalle diverse direzioni generali della Commissione Europea, quindi il trasferimento dei fondi avviene senza ulteriori passaggi dalla Commissione Europea direttamente a quelli che sono i beneficiari del progetto. Vengono anche gestite centralmente le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit che vengono appunto gestite direttamente dalle diverse direzioni generali della Commissione Europea. Si parla invece di gestione indiretta quando ci si riferisce ai fondi strutturali, queste che sono risorse che sono gestite, che partono sempre dall'Europa, ma poi vengono gestite a livello nazionale dagli Stati membri o a livello di ministeri e avremo i programmi operativi nazionali, oppure dalle regioni e avremo i programmi operativi regionali. Queste sono definite fondi strutturali e anche fondo di coesione, però l'Italia non è un paese beneficiario del fondo di coesione, quindi non ne tratteremo in questo ciclo di seminari che abbiamo organizzato. Nel caso dei fondi strutturali i fondi non sono assegnati direttamente a progetti scelti dalla Commissione Europea, ma il livello nazionale fa da intermediario nella pubblicazione dei bandi e nell'assegnazione delle risorse. Questo che vedete vuole essere, non so se ho raggiunto l'obiettivo, uno schema che cerca un po' di spiegare la differenza tra questi blocchi. Abbiamo la gestione diretta con i programmi comunitari, di questa gestione diretta in realtà fanno parte anche i fondi per l'assistenza esterna, che sono i fondi di assistenza esterna? Sono quei fondi che vengono sempre gestiti direttamente dalla Commissione Europea, ma che permettono all'Europa di andare a lavorare con i paesi che sono al di là dei confini dell'Unione Europea. Questi fondi per l'assistenza esterna sono a loro svolta suddivisi in 4 strumenti geografici e 3 strumenti tematici. Quali sono gli strumenti geografici? Abbiamo l'IPA che sarebbe lo strumento per la preadesione, che permette all'Unione Europea di andare a lavorare con i paesi che sono i futuri paesi in fase di adessione, in questo caso i paesi dei Balcani e la Turchia. Poi abbiamo il programma ENI, che è il programma di vicinato, che permette all'Europa di andare a lavorare con quei paesi che sono immediatamente ai confini dell'Unione Europea e quindi parliamo tutti i paesi dell'ex blocco dell'Unione Sovietica più i paesi del Mediterraneo. Poi abbiamo il partnership instrument, lo strumento di partenariato che permette all'Unione Europea di andare a lavorare con i paesi emergenti, con le economie emergenti e poi abbiamo lo strumento per la cooperazione e lo sviluppo che permette di andare a lavorare con tutti i paesi che fanno parte del blocco della cooperazione allo sviluppo. A fianco a questi 4 strumenti geografici abbiamo ancora 3 strumenti tematici che sono lo strumento per la democrazia e per i diritti umani, si chiamano strumenti tematici perché vanno a lavorare su temi specifici, lo strumento per la stabilità che sono dei fondi aggiuntivi che permettono all'Europa di intervenire ogni qual volta si crea una nuova situazione di emergenza per cui non erano stati previsti dei fondi, quindi parliamo di nuove guerre, di nuovi conflitti armati oppure per esempio di situazioni emergenziali tipo terremoti e poi abbiamo lo strumento per la cooperazione nel settore nucleare. Invece nella gestione in diretta nei cosiddetti fondi strutturali i fondi che vengono chiamati in causa sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Coesione che però vi ricordo l'Italia non ne fa parte, accanto ai fondi per l'agricoltura e per la pesca. Quindi per riassumere nella gestione diretta noi abbiamo i fondi che partono da Bruxelles e il rapporto contrattuale esiste solo tra la Commissione Europea e gli utenti finali, mentre nella gestione in diretta il trasferimento delle risorse avviene a livello nazionale o regionale, siamo sempre in presenza di un cofinanziamento governativo e l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di specifici bandi che vengono gestiti poi a livello nazionale. Quindi gli attori nella gestione in diretta sono la Commissione, il Governo centrale o le regioni, a seconda se trattiamo di programmi operativi regionali o nazionali, gli enti locali e i privati e gli enti locali che chiaramente possono partecipare come beneficiari dei progetti. Sappiamo che nel vecchio periodo di programmazione gli obiettivi erano convergenza e solidarietà tra le regioni e competitività regionale e occupazionale. Ora, nel nuovo periodo di programmazione questi due obiettivi sono stati sostituiti da investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, quindi abbiamo un'articolazione differenziata in relazione a tre diverse categorie di regioni, abbiamo le regioni meno sviluppate che sono quelle che hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, poi abbiamo le regioni in transizione che hanno un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media comunitaria e poi abbiamo le regioni più sviluppate che hanno un PIL pro capite superiore al 90% della media comunitaria. In più fanno parte sempre dei fondi strutturali la cooperazione territoriale europea, anche in questo caso come nel precedente periodo di programmazione avremo tre strand che sono la cooperazione trasfrontaliera che permette alle regioni che hanno una frontiera in comune di collaborare tra di loro, quindi per esempio avremo il programma Interreg Italia Austria che permette alle regioni del Nord Italia di andare a lavorare con le regioni di confine dell'Austria, poi abbiamo la cooperazione trasnazionale che permette sempre a regioni che hanno un confine geografico ma di più ampia apertura di collaborare tra di loro, invece poi abbiamo la cooperazione interregionale che permette a tutte le regioni europee di collaborare tra di loro svicolate da questo limite geografico. Nella cooperazione interregionale per esempio i progetti verdono molto su scambi scambi di buone prassi, scambi di esperienze e anche scambi delle migliori prassi che sono emerse nell'ambito dei progetti che sono stati presentati nell'ambito degli altri due strand cioè della cooperazione trasfrontaliera e della cooperazione trasnazionale. Non mi soffermo molto sulla cooperazione territoriale europea perché come vi diceva la mia collega Raffaella noi abbiamo organizzato un webinar specifico che si terrà nelle prossime settimane. Come si accede ai fondi della gestione in diretta? In realtà i finanziamenti vanno richiesti a un'autorità che gestisce il programma operativo nazionale o programma operativo regionale, questa è l'autorità di gestione e questo organismo valuta il progetto e decide se concedere il finanziamento, chi possono essere beneficiari? A seconda della natura del progetto possono essere vari enti pubblici, alcune organizzazioni del settore privato, università, associazioni o NG, ma questo molto dipende dalla natura del bando del progetto. Chiaramente come si può partecipare? Prima di chiedere un finanziamento nell'ambito dei fondi indiretti è necessario controllare i programmi operativi, quindi vedere che cosa, quali sono state le priorità previste dei programmi operativi per poter poi presentare una proposta di progetto adeguata e quindi poi chiaramente è necessario anche seguire le procedure che vengono stabilite dalla relativa autorità di gestione. In realtà tutto questo avviene tramite la pubblicazione dei bandi che avviene sui siti dedicati ai rispettivi programmi operativi regionali e o nazionali, però in alcuni casi c'è anche la possibilità di richiedere i finanziamenti in maniera costante, quindi senza una scadenza, perché questo viene deciso sempre dall'autorità di gestione. Chiaramente noi abbiamo pubblicato una guida su questo tema, cioè quali sono le autorità di gestione a livello nazionale dei vari POR e PON. Come si accede ai finanziamenti regionali o nazionali? Non esiste una dimensione minima per i progetti, quello che conta è il valore aggiunto europeo, cioè far capire nella nostra proposta di progetto perché stiamo utilizzando quel finanziamento che deve avere come obiettivo ultimo quello di raggiungere gli obiettivi che sono stati indicati nella strategia Europa 2020. Nel momento in cui presentate una proposta di progetto e avete dei dubbi, è l'autorità di gestione che può aiutarvi a risolvere quelli che possono essere i tratti più salienti dei singoli bandi. Tenete presente che in occasione del lancio dei bandi le autorità di gestione in genere organizzano anche delle giornate informative per chiarire quegli aspetti un pochino più oscuri dei bandi. In più potete sempre chiedere aiuto alla rete degli Europe Direct oppure alla rete Enterprise Europe Network che fornisce consulenza specializzata alle piccole medie prese sull'accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea. Parliamo invece dei programmi comunitari, cioè ai finanziamenti che vengono gestiti direttamente dalle diverse direzioni generali dell'Unione Europea. Innanzitutto la Commissione Europea in base agli obiettivi che si prefigge di realizzare predispone dei programmi inerenti nei diversi settori che hanno generalmente una durata pluriannale e sono attuati dalle varie direzioni generali. Ciascuno nel proprio settore, la direzione generale, ciascuno nel proprio settore gestisce poi direttamente questi stanziamenti previsti e quindi si occupa di pubblicare gli inviti a presentare proposte e anche di occuparsi della fase 2, cioè quella della selezione delle proposte. Vediamo un attimino qual è il leader dei programmi comunitari. Il programma comunitario viene adottato a inizio di programmazione dalla Commissione Europea con una decisione di ad adozione che viene generalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L, che è la serie dedicata alla legislazione. Per poter poi partecipare ai bandi bisogna aspettare la pubblicazione degli inviti a presentare proposte che vengono generalmente pubblicati o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C, che è quella dedicata alla comunicazione, oppure sui siti web delle direzioni generali che sono state dedicate ai singoli programmi. Quindi, come dicevamo, questi programmi vengono gestiti direttamente dalla Commissione Europea, che però a volte può avvalersi, specie per le funzioni amministrative, di apposite agenzie esecutive oppure di autorità responsabili. Quindi noi una volta che ci siamo letti quello che è il contenuto del finanziamento europeo, dobbiamo aspettare la pubblicazione del bando. Nel bando cosa troviamo? Quali sono l'oggetto e gli obiettivi, quali sono i beneficiari e quindi anche i requisiti minimi per poter partecipare a quell'invito a presentare proposte, la dotazione finanziaria, quali sono i criteri di selezione delle proposte che vengono utilizzati dalla Commissione Europea e anche quali sono le procedure e i termini di presentazione delle proposte. In più, viene sempre indicato un sito internet dove è possibile andare a scaricare la documentazione utile per la presentazione di quella proposta. Quindi, cosa dobbiamo avere sulla nostra scrivania per poter presentare una proposta di progetto? Innanzitutto della decisione di approvazione del programma, che come vi dicevo viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie L, poi ci dobbiamo procurare il testo del bando, ma la cosa più importante è procurarsi la guida per i candidati, perché la guida per i candidati ci dice passo per passo come poter compilare il formulario. In più, a volte viene richiesta eventuale ulteriore documentazione che è sempre importante avere a disposizione nel momento in cui si lavora la stessura di una proposta. In più, per la presentazione delle proposte è importante effettuare un'analisi delle misure abissibili e quindi anche delle relative priorità che vengono indicata nel bando. Questa è una cosa importantissima, cercare di sottolineare la dimensione europea, qual è il carattere innovativo e transazionale della nostra proposta, noi non stiamo presentando una proposta di progetto per risolvere il nostro problema privato, noi stiamo presentando una proposta di progetto perché con quella proposta noi vogliamo in realtà trovare una soluzione a un problema che deve essere valido non solo per la nostra realtà, ma anche per altri contesti europei. Inoltre ricordatevi sempre di rispettare i criteri formali per la presentazione della proposta perché la prima causa di esclusione avviene proprio sui criteri formali. In più, anche se vi viene richiesto di presentare le proposte di progetto nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea, è sempre bene preparare una scheda riassuntiva in lingua inglese che tra l'altro nel caso dei programmi comunitari che implicano sempre la creazione di un partenariato a livello internazionale, vi può servire per comunicare con gli altri partner del progetto e poi chiaramente ricordatevi di rispettare orari e scadenze, è importante l'orario perché sapete che in Europa esistono fusi orari differenti. Una volta che avete preparato la vostra proposta di progetto, in realtà dovete fare una sorta di checklist, ma non tanto relativa o allegato alla documentazione richiesta, quanto invece proprio sui contenuti, perché ci sono alcuni concetti che sono importanti per la Commissione Europea, uno di questi è la trasnazionalità, nella gestione diretta si differenzia dalla gestione indiretta, appunto perché presuppone quasi sempre la creazione di un partenariato internazionale, cosa che è valida per l'80% dei programmi comunitari, tranne alcune eccezioni come Europa per i cittadini e il programma live che prevedono anche la presentazione di proposte di progetto esclusivamente a livello nazionale. Quindi vi dicevo uno dei temi importanti, questo della trasnazionalità, nel momento in cui avete preparato una proposta di progetto vi dovete chiedere, questo nostro progetto sta incoraggiando la mobilità geografica, sta coinvolgendo uno o due o più Stati membri dell'Unione Europea? Un altro concetto importante è che le nostre proposte abbiano anche un aspetto innovativo e quindi ci dobbiamo chiedere in che misura questo progetto è innovativo, sta creando dei nuovi metodi e processi, sta definendo dei nuovi obiettivi, sta cercando di modificare dei sistemi già esistenti oppure sta introducendo nuovi approcci nella risoluzione di alcuni problemi, tra l'altro il valore aggiunto europeo, altro elemento importante, cioè che noi dobbiamo indicare alla Commissione che noi stiamo chiedendo quel finanziamento europeo, perché gli obiettivi e gli effetti delle azioni che sono previste nell'ambito di quel progetto possono essere raggiunti meglio a livello europeo piuttosto che a livello singolo. Ancora importante il tema della sussidiarietà, dobbiamo indicare nella nostra proposta di progetto che l'Unione Europea interviene solo quando enti locali, regioni e Stato non sono in grado di fare da soli e quindi necessita di un finanziamento europeo per poter raggiungere quell'obiettivo. Altro elemento importantissimo è il tema della sostenibilità, cioè noi dobbiamo indicare nella nostra proposta di progetto che il nostro progetto non finirà con la fine del finanziamento, ma che noi abbiamo già pensato a delle soluzioni che permetteranno al progetto di sopravvivere anche alla fine del finanziamento, perché quello che succedeva prima è che molti volte i progetti morivano con la fine del finanziamento, invece quello che ora in realtà la Commissione Europea vuole da noi è la dimostrazione che noi siamo in grado di far vivere il progetto anche alla fine del finanziamento. In più è importante anche il tema dell'interesse comunitario e della trasparenza, non sono prese in considerazione singole iniziative, è importante dare l'assenso per la pubblicazione dei dati propri, ma anche dei partner del progetto e in più è molto importante nelle proposte di progetto indicare il piano di comunicazione, cioè la Commissione Europea vuole che noi indichiamo in maniera molto puntuale in che modo intendiamo far conoscere i risultati del progetto alla comunità. Ancora, all'interno dei finanziamenti diretti, un ruolo fondamentale lo svolge il coordinatore del progetto, che è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei confronti della Commissione e che tra l'altro si occupa di gestire le operazioni finanziarie perché riceve il contributo finanziario della Commissione Europea, ma poi deve ridistributare tra i partner del progetto, è quello anche che si occupa un po' di fornire le relazioni e rapporti sullo stato di avanzamento del progetto, chiaramente chiedendo i dati da includere ai partner del progetto ed è anche quello che si deve occupare di tenere i registri contabili aggiornati e conservare quindi tutta la documentazione inerente al progetto, compreso fatture e ricevute. Nel caso dei finanziamenti diretti i contributi vengono sempre accordati a fondo perduto e coprono percentuali che in media vanno dal 50 al 100% del costo del progetto, il 100% in rarissimi casi e si può verificare più che altro nel caso del programma Horizon 2020. I massimali di finanziamento sono in genere indicati negli inviti a presentare proposte. La parte del budget che non viene coperta dal sostegno dell'Unione Europea deve essere quindi necessariamente cofinanziata dai partner del progetto stesso e in questo caso però si possono utilizzare anche degli sponsor. Fate attenzione alla pianificazione finanziaria del progetto perché se le spese preventivate risultano più alte l'Unione Europea non prevede una maggiorazione degli spanziamenti, mentre al contrario se le spese preventivate risultano più basse il contributo dell'Unione Europea viene diminuito proporzionalmente. Normalmente l'Unione Europea eroga il finanziamento in due tranche, si dà un anticipo a inizio lavori, solitamente si riceve entro i 30 giorni dalla firma del contratto e poi un saldo a fine progetto dopo la presentazione del report tecnico finale e anche della ricottazione che chiaramente deve essere sempre approvata dalla Commissione Europea. Ancora è importante fare una distinzione tra inviti a presentare proposte, le cosiddette sovvenzioni e le gare di appalto. In realtà nel caso dell'invito a presentare proposte, quindi della sovvenzione, l'obiettivo è quello di soddisfare le esigenze della struttura proponente e quindi attuare la politica della Commissione. In tal caso parliamo di un approccio dal basso che ha sicuramente un mandato istituzionale. L'approccio dal basso è perché siamo noi che andiamo a suggerire alla Commissione Europea una soluzione per andare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi della strategia Europa 2020, quindi è molto importante la qualità della proposta, conta poco l'aspetto finanziario e invece siamo sempre in presenza di un cofinanziamento. Conta poco l'aspetto finanziario perché non è determinante, l'importante è che il budget sia congruo rispetto alle attività che noi andiamo a presentare. Invece nella gara di appalto parliamo di un approccio dall'alto perché mira a soddisfare un preciso e puntuale interesse della Commissione, quindi generalmente la gara di appalto ha un fine commerciale, quindi i criteri che vengono utilizzati, l'importante sia la qualità della proposta, ma insieme ad una buona offerta economica perché vince la miglior proposta al miglior prezzo, però nel caso della gara di appalto abbiamo un finanziamento al 100%. Ora, quando è che usiamo le sovvenzioni? Le sovvenzioni le utilizziamo normalmente per poter accedere ai finanziamenti dei programmi comunitari come il programma Life, Horizon, Erasmus, mentre la gara di appalto è uno strumento che viene di più utilizzato nell'ambito dell'assistenza esterna, specialmente quando, faccio un esempio, vogliamo utilizzare lo strumento per la stabilità in caso di terremoto, si ha la necessità di fornire delle tende per gli sfollati e in quel caso lì viene indetta la gara di appalto. Quando viene utilizzata la gara di appalto per la fornitura di beni, per l'esecuzione di lavori oppure per la fornitura di servizi, quindi nell'ambito delle gare di appalto la Commissione agisce in qualità di committente e paga per i servizi secondo i prezzi correnti di mercato. L'informazione relativa alle sovvenzioni, lo abbiamo detto prima, lo troviamo o sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C oppure sui siti delle direzioni generali che vanno a gestire quei determinati tipi di finanziamenti diretti. Nel caso delle gare di appalto invece l'informazione viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea alla serie S che sarebbe un supplemento che in realtà è racchiusa in una banca dati che è la banca dati TED, che è la versione online del supplemento alla gazzetta ufficiale serie S. Questa banca dati pubblica circa 520 mila avvisi di appalti pubblici l'anno, compreso 210 mila bandi di gara per un valore di circa 420 miliardi di Euro, quindi è anche una banca dati abbastanza complessa che però può essere consultata tramite dei motori di ricerca, basta registrarsi per poter personalizzare i profili di ricerca in base alle proprie esigenze e si è anche la possibilità di ricevere gli avvisi per email secondo il proprio profilo di ricerca. Ora mi volevo fermare un attimo per capire se ci sono domande, vedo altri giorni fa un evento di interagione, sarebbe possibile, eventualmente possiamo prevedere un intervento della dottoressa Salvi, sì non ci sono problemi, tra l'altro so che sono collegati con noi moltissimi di Europe Direct, il mio invito è che se volete proporre dei temi o proporvi come relatori nell'ambito di webinar, fatecelo sapere perché noi non vogliamo fare altro che arricchire questo processo di webinar anche con il contributo degli altri di Europe Direct. Ancora vediamo un attimo altre domande, sì il coordinatore è una figura centrale nel processo di finanziamento, Horizon prevede gare di appalto, può prevedere gare di appalto sicuramente, un minuto che scorro le domande, è possibile contattare direttamente la struttura organizzativa dell'autorità di gestione, se indicarci nella regione Lazio chi può contattare, ho trovato direzione regionale, formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio dell'assessorato… Ok, allora, innanzitutto bisogna vedere se noi stiamo cercando l'informazione per il programma operativo regionale del FESD, quindi del Fondo Europeo di sviluppo regionale oppure del Fondo Sociale Europeo. Se cerchiamo l'informazione per il Fondo Sociale Europeo, sicuramente la direzione regionale formazione, ricerca e innovazione è quella più adatta, altrimenti il consiglio che vi avevo dato inizialmente è quello di scaricarvi la nostra guida presente nella sezione documentazione del sito Europa, dove noi abbiamo indicato tutte le autorità di gestione dei programmi operativi, sia del Fondo Europeo di sviluppo regionale che del Fondo Sociale Europeo, regione per regione, quindi utilizzate pure quella guida per cercare i numeri di telefono e altre informazioni che vi possano essere… Claudia, per ora mi sembra che non ci siano tante domande, evidentemente si è stata chiarissima in questa trattazione ampia, ma per l'appunto completa ed esaustiva. Nel frattempo che arrivano eventuali altre domande, io coglierei l'occasione per precisare, siccome alcuni colleghi degli altri centri Europe Direct e anche alcuni utenti si sono collegati in ritardo per problemi tecnici, colgo l'occasione per ricordare a tutti che questo webinar, la registrazione, sarà disponibile sul link dell'evento, su Eventi.pa, già a partire da oggi pomeriggio, così come tutti i materiali e per coloro che chiedevano come scaricare gli attestati dell'evento precedente del webinar del 20 aprile sul bilancio dell'Unione Europea, abbiamo avuto, come è già stato scritto in chat, ma lo ribadiamo per coloro che si fossero collegati in ritardo, abbiamo avuto dei problemi tecnici che sono in fase di risoluzione, per cui a brevissimo potrete regolarmente compilare la griglia di valutazione e scaricare direttamente l'attestato. Ho visto ora un'altra domanda, è possibile organizzare webinar specifici per amministratori locali? In realtà noi con questo ciclo di webinar un po' volevamo essere di aiuto in questo, cosa posso dirvi? Che noi abbiamo previsto un ciclo di webinar come da piano di azione, ma siamo aperti a proposte, quindi se avete qualche tema, ma anche relatori da proporre, contattateci e noi cercheremo di cercare di organizzare delle cose che siano di interesse per la maggior parte dei cittadini, delle persone, quindi fateci proposte e poi le valuteremo anche in base alle disponibilità che abbiamo nel piano di azione. Allora io andrei avanti, ora invece volevo parlare un attimo di una cosa che potrebbe sembrare secondaria, ma che non lo è, cioè come facciamo noi, faccio un esempio, noi abbiamo questi due focus web, Europa e programmi comunitari, che vengono ogni giorno alimentati da uno staff che va sui siti dell'Unione Europea, raccoglie le informazioni e le riorganizza attraverso questi due focus web. Quindi vi volevo far vedere un attimo quelli che noi utilizziamo come fonti di informazione per essere ogni giorno aggiornati su quello che accade in Europa. Probabilmente alcune di queste fonti già le conoscete, però facciamo così un ripasso, chiamiamolo così. Innanzitutto noi ogni giorno consultiamo Eurlex, che è la banca dati che contiene poi la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, comunicazione e della legislazione, perché come vi dicevo l'altra gazzetta ufficiale, il supplemento, invece non è compreso in Eurlex, ma è compreso nella banca dati TED. Eurlex contiene la legislazione in vigore e in preparazione ed è chiaramente a cura dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea. Un sito molto importante invece è Rapid. Rapid contiene i comunicati stampa del servizio comunicazione stampa della Commissione Europea, così come vengono pubblicati ogni giorno alle ore 12. Quindi troviamo un po' tutto quello che succede, tipo in questi giorni si parla del futuro del bilancio europeo, il comunicato stampa come prima fonte appare su Rapid. Poi abbiamo Inforeggio, che è un sito importante di riferimento perché contiene tutte quelle informazioni sulla politica di coesione e viene curato dalla DG politica regionale. E poi è importante tenere sotto controllo i siti delle direzioni generali della Commissione Europea, in particolare se stiamo seguendo un particolare settore. Quindi se per esempio a noi interessa Ambiente ed Energia andremo a consultare regolarmente il sito della Direzione Generale Ambiente ed Energia per capire quello che c'è di nuovo. Quello che vedete qui è così come appare la gazzetta ufficiale serie C ed L che ogni giorno noi consultiamo, nella quale potete trovare le decisioni di approvozione dei programmi comunitari, la pubblicazione di inviti a presentare proposte, anzi su questo punto vi devo dire una cosa. Prima c'era un obbligo da parte della Commissione Europea di pubblicare tutti i bandi sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C, comunicazione e informazioni, che aveva un grande vantaggio che il bando, siccome la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea viene pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, ciò consentiva di poter scaricare il testo del bando anche in italiano. Purtroppo questo obbligo non esiste più, quindi le direzioni generali sono libere di poter pubblicare gli inviti a presentare proposte o su entrambi, quindi gazzetta ufficiale e sito web oppure solo sul sito web. Qual è lo suo vantaggio? Che se viene pubblicato sul sito web quasi sempre l'informazione la trovate in lingua inglese. Ancora, come vi dicevo prima, abbiamo la banca dati TED, che è questa banca dati che permette di consultare gratuitamente le opportunità offerte alle imprese nell'Unione Europea, nello spazio economico europeo, ma anche altrove, perché tenete presente che contiene anche tutti gli inviti a presentare proposte, chiedo scusa, tutte le gare di appalto al di sopra della soglia di 250 mila Euro che vengono pubblicati in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi come potete immaginare è una banca dati abbastanza complessa. Vi devo solo raccontare un aneddoto che noi abbiamo raccontato più volte, quando il Parlamento europeo ha pubblicato la gara di appalto relativa alla fornitura della pasta per la mensa del Parlamento europeo, in realtà la gara di appalto è stata aggiudicata da una ditta spagnola perché gli italiani non hanno proprio presentato alcuna proposta, alcun progetto, questo perché? Perché probabilmente noi non utilizziamo regolarmente questa banca dati e quindi l'invito è quello di favorire un po' la divulgazione e l'esistenza di questa banca dati. Come vedete le opportunità commerciali possono essere consultate per paese oppure proprio per opportunità commerciale, quindi se state cercando gare di appalto per la fornitura di servizi potete fare una scrematura e quindi arrivare direttamente a quelle. Questo che invece vedete è quello che vi dicevo prima, questa è la RAPID che è la banca dati dei comunicati stampa della Commissione europea, così come vengono pubblicati ogni giorno, ogni tanto troverete davanti vicino al titolo una nuvoletta con dei puntini, in quel caso lì significa che la banca dati può essere consultata anche nelle altre lingue ufficiali della Commissione europea, altrimenti in genere i comunicati sono in inglese, francese e tedesco che sono le tre lingue per cui vige l'obbligo di traduzione per l'Unione europea. Ancora importante è l'ufficio di cooperazione di Europe Aid che si occupa di attuare gli strumenti dell'assistenza esterna della Commissione europea che vengono finanziati dal bilancio della Comunità europea e del Fondo europeo di sviluppo e che è anche il sito di riferimento per la gestione dei fondi nel quadro dell'assistenza esterna della Commissione europea. tenete presente che nelle slide noi abbiamo indicato i siti web, quindi quando potrete scaricare le slide avrete anche tutti i siti web di queste fonti di informazioni di cui stiamo parlando. Questa è la banca dati per poter accedere agli inviti e presentare proposte alle gare di appalto nel quadro dell'assistenza esterna e quindi per la fornitura di lavori, fornitura di servizi, esecuzione di lavori. Anche qui è possibile fare una scrematura, si può indicare per quale paese si è interessati e per che tipo di servizi e quindi avere una selezione delle opportunità. E poi ancora siti utili possono essere quello del aiuti e prestiti della Commissione europea che viene linkato anche sul sito della rappresentanza. Il sito in particolare aiuti e prestiti è disponibile anche in lingua inglese, francese e tedesca. Invece il sito della rappresentanza della Commissione europea contiene anche questa banca dati sui finanziamenti europei, in questo caso in lingua italiana. Ve le faccio vedere, questo è il sito aiuti e prestiti e questo invece è il sito che è linkato al sito della rappresentanza italiana. Altri siti istituzionali che vale bene consultare sono il sito del Parlamento europeo in Italia, che divulga sia il lavoro del Parlamento in generale, ma anche le iniziative che vengono attuate dagli europarlamentari italiani. E poi abbiamo il sito del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio che ha la responsabilità dell'informazione istituzionale ai cittadini italiani nel quadro dei rapporti tra il governo italiano e l'Unione europea. Queste sono le home page sia del Dipartimento delle politiche europee che del Parlamento europeo per quanto riguarda l'informazione in Italia. Poi come vi dicevo prima, se invece cerchiamo delle informazioni specifiche sulla politica regionale, il sito di riferimento e il sito in foregio, dove tra l'altro possono essere consultati, il sito può essere consultato per area geografica. Vi faccio un esempio, anni fa proprio con la collega Raffaella abbiamo dovuto organizzare delle visite di studio per dei romeni in giro per l'Europa e quindi dovevamo farci ospitare dalle autorità di gestione di alcuni paesi che avevano individuato i romeni, in realtà noi ci siamo aiutati con questo sito, siamo andati nei paesi dove volevamo organizzare le visite di studio, ci siamo scaricati i nomi e i cognomi delle autorità di gestione e li abbiamo contattati per poter poi chiedere di ospitare queste visite di studio, quindi è sempre bene sapere qual è lo strumento che vi può aiutare oppure se volete organizzare semplicemente una visita di studio, una buona prassi, vi potete aiutare con il repertorio delle autorità di gestione a livello europeo che è presente sull'inforegio. Ancora un sito importante di riferimento è il Cordis, che è un servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, è il principale canale di diffusione dei documenti relativi ai programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, gli obiettivi iniziali del Cordis erano quelli di agevolare la partecipazione alle attività di europei di ricerca e innovazione, quello di migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca, ma anche proprio di promuovere di più la diffusione delle conoscenze su quello che è lo stato della ricerca in Europa. In realtà poi vediamo che questo sito sta gradualmente per essere sostituito da lo EU Participant Portal, che vedremo tra qualche minuto, questa è l'home page del Cordis, di questo servizio sulla ricerca e sviluppo europea, tra le lingue previste per la traduzione che erano solo 6 risulta l'italiano, l'unica cosa non fatevi ingannare perché normalmente avete l'home page con le prime informazioni in italiano e poi nel momento in cui cercate di accedere alle singole informazioni tutto automaticamente diventa in inglese. In realtà come vi stavo dicendo prima, l'Unione Europea sta creando un mostro che si chiama il portale della partecipazione europea, questo sta diventando un po' il portale di riferimento per i partecipanti, inizialmente era nato come il portale di partecipazione per le informazioni sul programma Horizon 2020, ma in realtà sta gradualmente ampliando i servizi per favorire la partecipazione europea anche ad altri fondi diretti, infatti se vedete questa è la schermata riservata alle opportunità di finanziamento, sulla parte sinistra dove c'è Colts, come vedete man mano si stanno aggiungendo un po' tutte le fonti di finanziamento europee, quindi il programma Cosme, il programma Horizon, il fondo per la sicurezza interna e così via, quindi sta diventando un po' il portale di riferimento per i partecipanti. Come vedete questo per esempio è la pagina dedicata all'Horizon 2020 e periodicamente vengono nei box inseriti nuovi bandi, chiaramente in alto trovate quelli più recenti per andare poi via via a quelli che sono stati pubblicati in precedenza. Ancora un altro portale europeo di riferimento importante è il portale Giorgio Europe, che è un portale della Commissione europea che ha come riferimento i cittadini e le imprese e quindi potete trovare quelle risposte a domande che vi possono venire in mente, tipo voglio andare a studiare in un altro paese dell'Unione europea quali sono i documenti di cui ho bisogno per potermi trasferire in un altro paese dell'Unione europea. Come vi dicevo è divisa in due settori, sulla parte sinistra abbiamo il portale per i cittadini, invece quello a destra è dedicato alle imprese. Come vedete il portale è dedicato ai cittadini, da informazioni su come viaggiare, quali sono i documenti necessari, quali sono i nostri diritti, quali sono i trasporti e la disabilità e così via, fino a informazioni su lavoro e pensione, salute e quant'altro. Analogamente accade per le imprese, quello che volevo dirvi è importante per quanto riguarda il portale nella sezione dedicata alle imprese perché c'è tutta una sezione che si chiama finanze e finanziamenti, dove si possono consultare i programmi di finanziamento dell'Unione europea, l'accesso ai finanziamenti e anche informazioni sugli scambi per nuovi imprenditori. Poi come diceva la mia collega Raffaella, abbiamo i nostri due folks europa.formetsu.it e programmicomunitari.formetsu.it, vi voglio ricordare che il sito in questi giorni è in manutenzione, quindi se andate sul sito e non lo trovate attivo non vi scoraggiate perché tra qualche giorno verranno dipristinati. Queste slide ve le ha già proiettate Raffaella che riguardano i nostri focus comunitari. Quello che è importante è farvi vedere appunto la banca dati programmi comunitari dove noi abbiamo inserito le schede relative ai singoli finanziamenti in lingua italiana e siano contenuti sia i finanziamenti diretti ma anche i finanziamenti per l'assistenza esterna. Poi invece abbiamo lo scadenzario dei bandi dove potete consultare i bandi di tutti i programmi comunitari per data di scadenza, partendo da quella più recente via via andando quella più lontana. All'interno invece delle schede contenute nella banca dati programmi comunitari, invece potete trovare i bandi però che si riferiscono solo a quel programma comunitario, quindi per esempio se andate nella scheda del programma per l'ambiente e l'azione per il clima Life, troverete soltanto i bandi riferiti a Life. Se invece andiamo nel scadenziario bandi, troveremo tutti i bandi che riguardano tutti i finanziamenti diretti. Ancora vi ricordo la nostra mail europeadirect.it, abbiamo un call center attivo tutti i giorni e in più abbiamo un canale Twitter. Io mi fermerei perché in realtà abbiamo finito quest'altra sessione del nostro ciclo, però volevo vedere se ci sono domande. In occasione della festa dell'Europa vi sono svariati eventi informativi, si possono pubblicizzare su uno di questi siti web? Sicuramente, mandateci l'informazione, l'unica cortesia non ci mandate l'informazione un giorno prima, fatelo con un po' di anticipo, perché noi poi non facciamo in tempo a metterla sull'home page, perché noi generalmente aggiorniamo l'home page una volta a settimana, tra il giovedì e il venerdì. Quindi se volete andare anche in home page, cercate di mandarci l'informazione con ampio anticipo. Un'altra domanda, se si è partecipato a un bando, nel caso in questione del PSR, la domanda di finanziamento è stata accolta già da mesi e non è un diritto conoscere quando sarà disposta l'erogazione dello stesso considerato che si stanno anticipando notevoli spese per la realizzazione del determinato progetto e che nessuno nella regione, tantomeno là dalle strutture proposte, sono tutte evasive rispetto al fatto che sono notevolmente trascorsi i termini previsti dai parecchi mesi, sono d'accordo con lei che è un nostro diritto, però purtroppo questo dipende dall'autorità di gestione che gestisce i singoli bandi, sono d'accordo, in realtà un obbligo della Commissione europea è quello di essere quanti più trasparenti e precisi possibili, però questo poi come sapete molto dipende dalle nostre strutture nazionali e quindi possiamo fare poco su questo. Altre domande? Mi sembra che non ce ne siano. Allora, io prima di lasciarvi volevo soltanto fare di nuovo questi inviti, innanzitutto agli Europe Direct di proporre temi, ma anche di proporvi come relatori, mentre volevo invitare gli altri utenti, partecipanti, che è un termine che mi piace di più, a proporci temi perché vediamo se possiamo venirvi incontro. Io vi ringrazio per la partecipazione che vedo tra l'altro numerosa, spero di avervi aiutato un pochino in questo percorso di chiarezza sui fondi europei.